Signori, bentornati in un nuovo video flash. In Oriente a breve si potranno utilizzare carte in lingua inglese. Dal 25 ottobre infatti sarà possibile giocare sia carte occidentali che giapponesi in Malesia, Indonesia, Filippine, Hong Kong e Singapore che hanno al momento disponibili elementi in cinese semplificato e coreano. Una bella rivoluzione che stravolge non solo il lato giocato ma anche quello del mercato in sé. Non manca chi sostiene che in questo caso una piazza di compravendita verrà danneggiata a favore dell'altra, chi afferma invece che il tutto resterà fermo così e altri addirittura prevedono un calo delle quotazioni per quanto riguarda le carte inglesi e giapponesi a discapito di quelle coreane e cinesi. Insomma le voci girano, il competitivo orientale festeggia e le indiscrezioni aumentano generando un brusio di fondo che verte sempre verso una semplice quanto più che legittima domanda. E da noi qui in occidente, quando arriverà la possibilità di giocare carte orientali? Di solito le notizie vengono prima testate nei paesi del sollevante per poi estendersi anche lì dove il gioco segue regimi arretrati. Vedasi la pubblicazione dei set in giapponese che stanno andando verso il 1500esimo capitolo mentre noi qui ancora ci picchiamo con il leader di OP08, l'arrivo di nuovi prodotti come la base musicale che riproduce frasi celebri e quant'altro disponibili al momento unicamente per il mercato nipponico e a breve in arrivo sugli scaffali delle fumetterie sparse in Europa ed America, le teen annunciate ma non ancora prodotte ed ora questo, l'idioma che giochiamo dal giorno 1 disponibile per il mercato asiatico senza ricevuta di ritorno. Che questo integrare sia dovuto all'arrivo della Coppa del Mondo che si terrà in Giappone nel 2025 e dovremo aspettarci un comunicato stampa da parte della Bandai prima della data del campionato che assegnerà il titolo iridato che ci consentirà quindi di poter impiegare carte provenienti da altri paesi nei nostri deck? Le domande non fanno che aumentare ma credo che prima di un annuncio così importante bisognerà dapprima pareggiare i set. Nel senso che se posso giocare carte provenienti da OP09 mentre qui c'è ancora OP08, nessuno mi vieterà di recuperare gli elementi che mi serviranno in Asia avendo già pronto il mazzo che vorrò giocare all'arrivo dello stesso OP09 in inglese, pagando la metà della metà del prezzo ovviamente. Questo però potrebbe comportare un calo drastico delle quotazioni di mercato occidentali a favore di quelle orientali. E non voglio neanche pensare al fatto che sulla scia dell'entusiasmo molti aspiranti re dei pirati diverranno la causa principale del pareggio forzato dei set che risulterebbe catastrofico per il mercato nostrano. Infatti se posso giocare un'espansione in avanti preferisco farlo subito senza aspettare e questo può far sì che la merce disponibile nelle fumetterie riceva una domanda inferiore rispetto a quella prevista, generando degli invenduti con conseguente diminuzione del prezzo ed altri fattori che potrebbero risultare spiacevoli per i gestori dei negozi. Ovviamente le mie sono solo speculazioni e lasciano il tempo che trovano, non ho la palla di cristallo e non posso predire il futuro, ma qui c'è da stare molto attenti. Ci sono dei passi che bisogna obbligatoriamente fare prima di far convivere inglese e giapponese in un unico deck qui in occidente. Di aspetti comunque da prendere in considerazione ce ne sono a migliaia e parlare di ognuno di loro richiederebbe una live e non un video flash, tuttavia le dinamiche che ci attenderanno le verremo a conoscere solamente a giochi fatti. Vediamo il lato positivo però della cosa, se il mercato mondiale verrà unificato avremo praticamente il doppio se non il triplo o addirittura quattro volte tante le carte a disposizione da compravendere o scambiare a nostro più totale piacimento. Giapponese sì, giapponese no, chissà se un giorno vedremo l'introduzione di tale idioma nel nostro stile di gioco. Questo argomento è già stato trattato qui sul canale quando hanno dato il permesso di poter utilizzare i don di qualsiasi lingua in ogni tipologia di mercato. Troverete il contenuto dedicato qui. Ed ora si sta verificando un aspetto del quale ho già parlato. Si sta muovendo qualcosa ed è sotto gli occhi di tutti e vorrei prima di concludere lasciarvi con un piccolo consiglio. Se avrete a disposizione le carte giapponesi non vendetele, non si sa mai. E voi come avete preso la notizia in questione da parte della Bandai? Come sempre fatemelo sapere nei commenti, inoltre iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.